Il 24 e 25 gennaio a Trieste ci sarà il primo evento di Selecting Italy, un'opportunità per chi vuole scegliere l'Italia e le regioni italiane per investire. Rappresenteremo tutte le varie occasioni e tutte le varie filiere di produzione e le specializzazioni che esistono nelle diverse regioni italiane, un'iniziativa che parte dai territori per rivolgersi al mondo. Per questo abbiamo deciso come conferenza delle regioni di partire con questa iniziativa che si svolgerà ogni anno e il primo anno appunto sarà Trieste protagonista e coinvolgerà tutte le regioni italiane. Vi aspetto il 24 e il 25 gennaio a Trieste.